Ed è incerto che vogliono un applauso altrimenti non entriamo più in scena Ma anche due, bravo, guarda che bravo, bravissima Ed è un applauso fortissimo perché lavorano da mesi e mesi a fronte di uno stipendio in pari a zero i volontari di Arco Sport E' il primo e ultimo applauso per i giudici che poi saranno ovviamente contestati più volte Poi avremo critiche feroci nei confronti degli arbitri Grazie